Buongiorno, sono Massimiliano Medici della SICOM SRL di Formigine in provincia di Modena. Ho deciso di partecipare a questo evento perché il discorso del Digital Cineage e della messaggistica aziendale è sempre più forte in sviluppo e di conseguenza finché non tocchi con mano i prodotti e vedi realmente le potenzialità di queste macchine non riesci bene a proporre ai clienti quello che praticamente si aspettano e quello che vogliono. Ho deciso di investire questa mezza giornata per scoprire queste nuove tecnologie e di conseguenza propormi al meglio nei confronti del cliente per assecondare le loro richieste. Adesso il livello si è un po' spostato purtroppo solo sul prezzo finale. non guardano quello che c'è attorno, fra cui la ricerca, l'investimento di tempo e corsi ma purtroppo guardano solo l'importo finale quindi un'altra motivazione per cercare di sviare il cliente e fargli capire meglio tutto il surplus e tutto il valore aggiunto che gli si dà alla sua installazione personalizzata. Siamo un sistema integrator, ci occupiamo di audiovisivi professionali e abbiamo anche due divisioni nel security system e nel medicale. Il bilancio della sopravvivenza, visto il periodo un po' particolare però attingendo un po' in vari mercati, in vari campi come si dice dalle nostre parti teniamo botta anche su pestiti dal terremoto visto che cerchiamo appunto di creare l'abito su misura in base alle esigenze del cliente visto che il periodo è particolare e le richieste sono sempre più particolari. Per fortuna noi siamo a 30-40 km e quindi l'abbiamo sentito relativamente però molti nostri clienti che sono di quelle zone hanno vissuto e stanno vivendo purtroppo una situazione non tanto piacevole però il dinamismo della nostra regione Emilia-Romagna ha fatto sì che con collaborazioni e partnership sia potuti ripartire abbastanza velocemente nonostante questa brutta situazione purtroppo non prevista e non preventivata.